Via la presunzione noi siamo un'eccellenza sul territorio, siamo una provincia interamente montana e parlando di viticultura rappresentiamo una viticultura storica, unica, terrazzata appunto in questo territorio di montagna. Si parla dei vini di Valtellina già nel 1200-1300 quindi è una regione alpina, è un nebbiolo il nostro delle Alpi che ha una lunga storia. Numerosi castelli che ci sono qui nell'arco collinare partendo da Varzi, Zavattarello, c'è la rocca di Pietra dei Giorgi, la rocca di Canneto ci sono diverse strutture di interesse storico diciamo. Questa è zona molto vocata per tante tipologie di salumi dal salame di Varzi alla pancetta steccata alla coppa dei nostri cugini diciamo piacentini che per noi siamo proprio estremamente confinanti. Varese è spesso considerata la provincia solo laboriosa e industriale, una città che si è affermata attraverso un concetto di pietas o di aiuto reciproco che a Varese prende un nome dei monti sacri, della Madonna del Monte, il saccomonte. Varese è anche la realtà del risorto col pesce persico, il famoso zinc carlin, cioè la formaggina erborinata, prezzemolata, le formaggine di capra del Luinese ma anche quelle filzette, quel salame lombardo reso famoso in Brianza ma commercializzato a Varese. Un prodotto o anzi soprattutto una conoscenza, un qualcosa può scomparire o perché scompariano gli ultimi artigiani o perché come nel caso della pizza essendo diventato il piatto più diffuso e consumato del pianeta la globalizzazione può distruggerne quella che è la radice, cioè rischia di perdersi in questa globalizzazione quella che è l'origine vera, quindi la conoscenza tradizionale che è incardinata in una città che è Napoli e in un'arte che è quella dei pizzaiuoli napoletani. Un saluto al progetto Italia Football Club. Io ero un calcio romantico, la squadra che io ritengo una delle formazioni più forti di ogni tempo e quello che vinse lo scudetto dei record nel 1988-89. Una squadra con i due tedeschi, c'era Lothar Mateus, Andrea Sbreme e come attaccante c'era Ramon Diaz insieme a Serena. Il piatto preferito, il mio risotto alla milanese. Tanti saluti, cari saluti, affettuosi saluti Italia Football Club a tutti e viva!